Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La recente operazione della Guardia di Finanza di Genova ha portato all'arresto del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, per presunte accuse di corruzione legate alla sua presunta implicazione in affari illeciti riguardanti concessioni portuali e finanziamenti. Accanto a Toti, sono coinvolti anche l'amministratore delegato di IREN, Paolo Emilio Signorini, e l'imprenditore portuale Aldo Spinelli. L'inchiesta riguarda presunti finanziamenti illeciti ricevuti da Toti da parte degli Spinelli, in cambio di favori nell'ambito delle pratiche portuali e immobiliari. Signorini, ex presidente dell'autorità portuale, è accusato di aver accettato benefici e regali da Spinelli, mentre quest'ultimo avrebbe cercato di favorire i propri interessi attraverso il sistema di corruzione. Accuse di corruzione elettorale sono state sollevate anche nei confronti di altri individui, inclusi collaboratori di Toti, con presunti legami con la criminalità organizzata. Toti, tuttavia, nega le accuse e il suo legale sostiene che le azioni contestate rientrano nell'ambito della sua legittima attività amministrativa. Attualmente, Toti è agli arresti domiciliari e il suo vice, Alessandro Piana, ha assunto temporaneamente la carica di presidente della regione Liguria. La situazione ha generato grande turbamento nella regione, mentre le indagini proseguono per fare piena luce sui fatti contestati.